Enesima tragedia ieri pomeriggio sul Gran Sasso a Pizzo Cefalone. Non ce l'ha fatta Fabrizio Scocchia, commercialista di 56 anni e residente a Pescara, che era in escursione con due amici. È precipitato per 300 metri mentre percorreva un sentiero che a detta di tutti conosceva bene, pur non essendo un alpinista esperto. Fatto sta che quel sentiero ripido gli ha costato la vita. Il recupero è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, da capire se si sia trattato di un malore o di un momento di distrazione, a dare l'allarme agli amici. Ovviamente ci saranno gli accertamenti all'ospedale San Salvatore. I due amici hanno raccontato che erano davanti di qualche metro, quindi non hanno assistito direttamente alla caduta, hanno solo sentito il rumore. La procura ha aperto un fascicolo, anche se la dinamica, secondo il presidente del soccorso alpino Daniele Perilli, fa pensare a un malore. Il sentiero ha fatto presente Perilli e frequentato anche da persone non esperte, perché non molto impegnativo, a parte quel sentiero ripido. Perilli ha colto l'occasione per insistere ancora una volta sul discorso sicurezza. Bisogna andare in montagna considerando sempre tutto prima e non sul posto. A gennaio nello stesso punto era morto Marco Pecoraio, un alpinista di Roma che era scivolato su una lastra di ghiaccio precipitando giù, mentre da pizzo cefalone tornava a campo imperatore. Essendoci un'inchiesta aperta dalla procura, si deciderà se fare o meno l'autopsia sul corpo. La passione del commercialista era la bicicletta, ma la domenica spesso amava fare escursioni. Non era la prima volta che saliva sul Gran Sasso con i suoi compagni di escursione. Lui stesso aveva pianificato questa, che gli è stata fatale. Nella giornata di ieri sul pizzo cefalone è deceduto un escursionista di 56 anni, nonostante il corretto equipaggiamento. Come ben sappiamo, in montagna il rischio zero non esiste. È importante perciò prepararsi adeguatamente, scegliere un'attrezzatura corretta e studiare bene l'itinerario ed affidarsi alle guide alpine qualora non ci si senta sicuri del percorso che si vuole intraprendere.